No, a Firenze le cose vanno abbastanza bene, ma io sono d'accordo con il professor Ricciardi che il buonsenso serve se ci sono anche le regole, perché qui il 50% dei problemi sono la comunicazione, quindi dobbiamo fare attenzione a dare comunicazioni che lasciamo alla libera interpretazione delle persone, questo è molto rischioso, quindi regole poche, semplici, chiare, come tenere la mascherina, poi dopo viene il buonsenso. A Firenze la vaccinazione sta andando bene, proprio domani, mercoledì mattina, cominceremo con le vaccinazioni e le farmacie, cominciamo dalle farmacie comunali che hanno prontamente predisposto i programmi di formazione e quindi sarà un altro step importante per i cittadini.